negli ultimi dieci giorni ho letto due classici del romanzo ottocentesco alla dire l'educazione sentimentale di flaubert oscar mondadori traduzione di giuseppe pallavicini caffarelli che rileggo dopo una quindicina d'anni e ritratto di signora di henry james editore veltrinelli questa tradizione che ho io traduzione di luigi lunari che invece leggo per la prima volta si tratta di due di due libri di due scrittori diversissimi separati da molte cose dalla nazionalità dalla lingua flaubert francese henry james americano ma anche viene da dire soprattutto da dal tempo c'è una generazione che intercorre tra loro flaubert era nato nel 1821 henry james nel 43 22 anni possono sembrare non moltissimi ma se teniamo presente che vanno riferiti a un secolo densissimo per il romanzo quale l'ottocento insomma questo lasso di tempo ha tutta una serie di ripercussioni sulle vicende sul loro modo di scrivere sulle storie che raccontano e così via e quindi dicevo scrittori diversissimi a partire dallo stile quello di flaubert cristallino sempre intellegibile laddove invece henry james in qualche modo più raffinato più arioso più sicuramente più sofisticato ma al di là delle delle differenze che sono sono a tutto campo citiamone almeno una che è quella di impianto si tratta di storie che hanno entrambe alla loro c'è sono sono ritratti di nuovo per riprendere il titolo di james di due personaggi osservati nelle loro evoluzioni insomma quindi abbiamo isabel nel caso di ritratto di signora e il giovane fredrick nell'educazione sentimentale però c'è una c'è una punto una differenza di impianto sostanziale è questa flaubert fondamentalmente oltre alla parabola individuale ci offre anche l'affresco di una società di un'epoca se volessimo parafrasare il titolo di james per quanto riguarda a fraubert l'educazione sentimentale avrebbe potuto anche intitolarsi il ritratto di un giovane di una società è palese l'intento da parte di fraubert di saldare il pubblico col privato quindi dare un fornire un quadro esaustivo esauriente sia delle delle tensioni relativa all'individuo sia del della società nel suo insieme di un'epoca anche perché fondamentalmente flaubert comincia a raccontare nel 1840 e il grosso del libro copre il decennio quel decennio lì quindi dal 40 al 50 che hanno stato un decennio particolarmente vivace per la storia europea e in particolare per parigi fra le altre cose l'educazione sentimentale oltre che essere un mirabile studio e ritratto di personaggi anche un bellissimo ritratto della città di parigi mentre invece all'opposto henry james è molto più c'è l'obiettivo di henry james è molto più circoscritto quella quella del ritratto di signora è in qualche misura una storia da camera quindi molto molto più privata tutto ciò che noi veniamo ad apprendere della società che gravita intorno al personaggio di isabel la protagonista del ritratto di signora lo lo desumiamo noi cioè non è qualcosa che ci offre henry james scopertamente su un piatto no è in modo in modo aperto come invece fa flaubert con le conversazioni con 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 tutte queste mirabili descrizioni di feste in cui è proprio evidente il suo intento di restituire la varietà del mondo il mondo e la società come palcoscenico ecco però al di là di tutte queste differenze dicevo c'è una nota di fondo un denominatore comune per come ho letto io questi due romanzi quantomeno e che io definirei come l'analogia tra il genere di aspettative che entrambi i due protagonisti di questi romanzi ripongono negli altri nel mondo cioè sia fredrick che isabel si aspettano qualche cosa dal dagli altri mirano ad essere guardati in un certo modo dagli altri dal mondo e questo viene a essere la sostanza della loro vita c'è quindi l'obiettivo in qualche modo delle loro esistenze c'è una notazione in particolare per quanto riguarda ritratto di signora nel capitolo quarto in cui henry james ci dice apertamente che la che isabel era affetta da da un desiderio forte e inestinguibile di piacere mi piacere agli altri no da dove invece in flaubert non c'è una notazione come il caso di james risolutiva ma le considerazioni che lui fa in merito al personaggio di fredrick sono sparse un po da per tutto cioè ci viene a dire un colpo che lui riponeva tutto sull'amore questo amore impossibile che fredrick coltivava nei confronti di questa donna sposata dove invece viceversa in ritratto di signora isabel stessa passa attraverso un matrimonio ma l'infelice quindi unione fallimentare da cui poi uscirà oppure successivamente si coltiva ambizioni come pittore poi progetta dei drammi quindi sogni come scrittore poi vuole sfondare in politica ecco c'è quest'idea è più altalenante se vogliamo ecco la sono più altalenanti gli umori i sogni le ambizioni di fredrick però c'è appunto una nota di fondo comune c'è quest'idea di essere proiettati entrambi tutti questi due protagonisti nell'esteriorità e questo appunto questo essere ripiegati anziché verso l'interno verso l'esterno a mio modo di vedere spiega due cose la prima è la nostra il nostro scarso attaccamento cioè come lettori non ci affezioniamo mai granché a nessuno dei due perché intuiamo la loro la loro ingenuità di fondo la loro mancanza di spessore di profondità e quindi in definitiva di profondi di interiorità pardon e dall'altra parte questa di nuovo questa proiezione verso l'esterno spiega ci rende chiaro in qualche modo anticipa anche le delusioni a cui vanno incontro e qui sono due romanzi potremmo anche definire come due romanzi sulla vacuità sulle sulle illusioni mondane no qui flaubert è più perentorio di di james e per come dire per dare un'idea del del modo anche della diversità una volta di più dell'impostazione della della prosa ma in questo caso direi della prospettiva di questi due romanzieri mi rifaccio con la mia esperienza personale di lettore nel senso che ho letto prima eri james e poi sono sono passato a flaubert ecco leggendo ritratto di signora mica mi è capitato di pensare da lì che è nato il proposito di tornare a leggere l'educazione sentimentale di pensare a fraubert di averne nostalgia cioè leggendo eri james mi capitava di constatare in corso di lettura cioè di pensare a flaubert come un romanziere in qualche modo più più completo integrale e questo in virtù delle tante descrizioni osservazioni che erano rimaste nella mia memoria dalla prima lettura dell'impostazione sentimentale in cui flaubert passava cioè si serviva del personaggio di frederick come un trampolino di lancio per raggiungere un livello universale no quindi come dicevamo prima per affrescare un'epoca per ritrarre ciò che è senza tempo ciò che è eterno delle persone dei singoli e al polo opposto della società della storia però nel momento in cui sono passato a rileggere flaubert mi è successa una cosa strana cioè più mi avvicinavo al alla fine del del libro al finale dell'educazione sentimentale che è un finale in cui flaubert fa fa dei bilanci cioè ci mette di fronte al fallimento del personaggio di frederick che insieme a un amico riflette sulla propria vita la vede come una vita fondamentalmente sprecata in cui ha fallito su tutti i fronti mi deluso da dall'amore dell'uso dalla politica dell'uso in parte anche dal da amicizia se vogliamo il bilancio lo fa insieme a un amico però un amico che lui ha tradito insomma è un po una delusione su tutti i fronti ecco il lettore forte come è stato nel mio caso del della lettura fresca diciamo di ritratto di signora non può non non mettere a confronto i due finali e constatare che in qualche modo quello di james è più equanime di fronte alla complessità del reale cioè questo è paradossale perché nel finale di finale flaubert no dove c'è questo bilancio dove c'è questo questo intento di dire al lettore guarda che frederick si è votato alle illusioni ed ha fallito no ha coltivato ambizioni mondane artistiche politiche e non è riuscito praticamente in nessun ambito non può risultare in qualche modo meccanico cioè telefonato cioè lettore rileggendo l'educazione sentimentale è come se dicesse a se stesso quasi fin dall'inizio come comunque come se avvertisse fin dalle prime parti una sorta di stonatura perché visto che è chiaro perché flaubert ce lo mette sotto il naso immediatamente che frederick sta inseguendo dei fantasmi beh a questo punto è anche chiaro che si ritroverà lo capiamo lo intuiamo abbastanza presto con un pugno di mosche in mano dove invece il finale di harry james che in qualche modo è più aperto dico che mi risulta più equanime di fronte alla complessità del reale perché appunto all'opposto di flaubert james non vuole essere definitivo non assertorio in qualche modo inappellabile ma ci ricorda appunto attraverso questo finale eppure indirettamente che in realtà nell'esistenza umana non c'è niente di definitivo a parte forse la morte di tutto in qualche modo passeggero tutto è cangiante mutevole anche per l'appunto il senso di delusione di delusione falle di fallimento quindi in qualche modo c'è questa sorta di bilanciamento che ho avuto modo di sperimentare cioè in corso d'opera relativamente alla sua al genio di flaubert come ritrattista può convincere di più può risultare appunto più integrale più completa per riprendere un aggettivo forse un po banalizzante ma che rende l'idea flaubert e dall'altra parte per un momento in cui si arriva in fondo e rende meglio ragione almeno in modo di vedere henry james della complessità delle cose quindi in generale della mutevolezza dell'esistenza dove invece c'è questo questo prepotente intento di flaubert nel di fissare una vita come come se la guardasse dall'esterno come una sorta come se frederick fosse per lui una sorta di topo di laboratorio risetto dentro una bottiglia che lui osserva dall'esterno ma sempre in modo in modo distaccato e astratto no siamo ovviamente agli antipodi per riprendere un libro di cui ho parlato un po di tempo fa rispetto a uno sguardo come quello del torstoide la morte di vanilic ecco noi leggendo la morte vanilic perché ci tocca così tanto quel libro perché capiamo che tolstoi rivive il dramma di vanilic nel momento in cui ce lo racconta quando invece flaubert guarda frederick da subito come se stesse a chilometri rispetto a lui come una sorta come se fosse un po il suo padrone non c'è un'evoluzione non si lascia mai sorprendere ecco dal proprio personaggio dalla propria creazione mentre invece nel caso di tolstoi nel caso di altri romanzieri in parte forse anche nel caso di henry james però su questo non ho riferito abbastanza credo però la lettura è troppo fresca c'è una maggiore autonomia della creatura rispetto al suo creatore anche se in realtà pure henry james come seppur in modo diverso da flaubert interviene nel corso della narrazione per mettere in prospettiva le sue vicende però lo fa in modo meno onnisciente ecco penso in particolare un passo di ritratto di signore in cui henry james ci dice guardate io vi descrivo un po i meccanismi il modo di ragionare l'orizzonte della mia eroina però in realtà ve lo descrivo per come lo vedo io ecco questo tipo di affermazione è inconcepibile in fraubert perché è chiaro che fraubert non ci sta dando una versione come dire parziale un'angolazione di ripresa tra le altre ma ci sta dando la versione con la con la v maiuscola come una sorta di sguardo oggettivo dall'alto ecco però al di là di tutte queste considerazioni sulle somiglianze differenze per arrivare diciamo a una sorta di bilancio perché erano un po le somme la lettura di henry james e di flaubert e qui entro a pie pari nel campo dei gusti personali dell'opinione quindi dell'opinabile mi è risultata utile se non altro e non da ultimo per chiarire una volta di più a me stesso il motivo per cui ai miei occhi romanzieri come tolstoic appena citato e ripreso o dostoieschi o dickens risultano più risultano migliori e in definitiva per riprendere un aggettivo usato prima più completi di autori come james e fraubert possono dei giganti e la metterei la metterei giù così mentre henry james e flaubert fanno appello direi pressoché esclusivamente pure in grandissimo stile alla nostra intelligenza romanzieri viceversa come tolsto i dostoieschi dickens potrei citarne altri cito questi tre perché mi sembrano forse più grandi o comunque sono i primi che vengono in mente pur non dimenticando mai di fare anche questo hanno sempre ben chiaro che per fare un salto di qualità per far fare un salto di qualità a un romanzo e più in generale forse la narrativa si tratta sempre di parlare innanzitutto non all'interno non solo all'intelligenza del lettore ma di rivolgersi innanzitutto al suo cuore non solo all'interno